Presidente, semplicemente per richiamare il fatto che la presenza in quest'Aula è condivisa da alcune regole. Le regole sono scritte sul regolamento. I colleghi del Movimento 5 Stelle, ogni voto finale, non rispettano le regole. Anche noi siamo capaci di alzare bandiere, striscioni, manifesti, oggetti. Non lo facciamo mai per rispetto delle regole. E lei fa bene il suo dovere richiamandola a rispetto delle regole. Allora, grazie. Quello di Bonapede non era un richiamo al regolamento. Non era un richiamo al regolamento. Allora, cercate di fare riferimento agli articoli del regolamento, se volete fare un richiamo al regolamento. Deputato Guglietti, prego. Grazie, Presidente. Non voglio entrare in merito dell'intervento che ha fatto prima il collega Bonafede e né il collega Rosato. Ma vorrei entrare in merito all'intervento che ha fatto il collega... L'articolo è lo stesso del collega Ettore Rosato. È l'identico articolo. Onorevole Colletti, la prego. Faccia riferimento all'articolo. È quello di Rosato. Otto e seguenti. Otto e seguenti. Ovvero, nel passato, lei qualche volta ci ha interrotto, poiché a suo dire, a dire degli altri presidenti di turno, non ci rivolgevamo a lei come il regolamento indicava. Però non ha fatto la stessa cosa oggi, in questa seduta, con il collega, col qui di in più, Speranza. E quindi gradirei che sia... che la prossima volta, qualora dovesse intervenire nel richiamarci un articolo del regolamento, richiamasse eventualmente anche i colleghi di maggioranza che sono tanto a suo cuore. D'accordo, la ringrazio.